Yuma Diakite avrebbe preferito non far parte della ciurma dell'isola dei famosi 2019. Durante la diretta dello scorso giovedì, l'ex modella ha mostrato un chiaro fastidio quando Grecia Colmanaris ha fatto il suo nome per farla entrare nel gruppo di Playa Uva. Yuma avrebbe preferito infatti diventare una dei pirati e sottrarsi così alle fatiche legate all'isola più grande. Dopo un piccolo sbuffio che tuttavia non è sfuggito all'occhio della telecamera, Yuma ha sfoderato il suo solito sorriso e ha accettato il proprio destino. Si ritroverà con i compagni già conosciuti in precedenza e forse è un bene, visto che Paolo Brosio sarà nel gruppo più piccolo e quindi non ci saranno più scontri fra i due. Anche se in maniera soft, perché la Diakite perde difficilmente la bussola e sfoga la sua rabbia in modo contenuto, senza per ora superare i limiti. Brosio ha di certo il merito di averla spinta o altre quel confine, ma solo perché l'ex modella era ormai sfiancata dalle sue teorie irrealizzabili. Yuma di Akite, i complimenti di Madaloni.L'isola dei famosi 2019 ha permesso a Yuma di Akite di fare un po' la padrona di casa, è stata la prima ad accogliere Marina Larosa nella nuova location e a darle il benvenuto come se fosse una familiare. Nessuno slancio di affetto ovviamente, visto che le due non hanno avuto ancora modo di conoscersi meglio, ma comunque indice di quel carattere che la Pantera sta mettendo sempre più in luce. Non è un caso infatti se Marco Madaloni ha deciso di graziarla nonostante i bagni in oceano, Yuma sa bene quando lavorare e quando invece concedersi un po' di relax. Per questo durante una delle ultime giornate non ha subito i borbottii del giudocca anche se si trovava a molo con Grecia col Manaris. Anzi, Madaloni l'ha usata come esempio con gli amici con cui stava girando la macchina del riso, indicandola come una delle poche naufraghe dell'edizione che si dà da fare e che soprattutto aiuta gli uomini nei compiti più difficili a livello fisico. . Le possibili nomination.Yuma di Akite rimane per ora un punto interrogativo. La concorrente dell'Isola dei famosi 2019 non lascia trasparire infatti i propri malumori. Se accantoniamo gli attriti con Paolo Brosio, è davvero difficile riuscire a intuire verso chi potrebbe dirigere la nomination di stasera. Forse voterà Marco Madaloni, di cui non ha gradito le pugnalate alle spalle contro Grecia col Manaris. Ha chiesto un po' di rispetto per la compagna, anche se le sue richieste sono cadute nel vuoto sia prima che durante la diretta. E visto che l'attrice è già al televoto, possiamo dare per scontato che Yuma non potrà votarla ancora una volta. . Chi rimane quindi? Forse sarà Altobello, con cui sembra avere poca affinità. La concorrente barese potrebbe essere troppo esuberante per i gusti dell'ex modella. Non è escluso però che Yuma decida di unirsi al malcontento generale e punti il dito contro Damitra Hampton, ancora una volta il perfetto capro espiatorio per le prime nomination. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like. Iscriviti per non perdere le novità.